E' un risultato positivo, direi che l'Europa vince contro chi voleva distruggere l'Europa. Posizioni nazionaliste e sovraniste rischiavano di mandare all'aria un progetto che invece noi abbiamo fortemente voluto e sostenuto, quello del Recovery Fund, che mette in campo centinaia di miliardi per la crescita. Ora naturalmente ci saranno soldi sia come sovvenzioni sia come prestiti a disposizione dell'Italia, bisogna saperli prendere quei soldi, bisogna quindi fare dei progetti di riforme che ci permettano di ottenere un risultato positivo. Il Governo dovrebbe ascoltare le opposizioni per fare questo, se si vuole veramente fare un piano di riforme, lo si può fare soltanto con un coinvolgimento delle forze di centrodestra a cominciare da Forza Italia. Noi abbiamo idee molto chiare, abbiamo fatto una serie di proposte concrete e vedremo se il Governo le vorrà accettare. Detto questo, siccome questi soldi del Recovery Fund saranno di fatto disponibili dal secondo trimestre del prossimo anno, io credo che sarebbe giusto utilizzare fin da subito i soldi del MES per una riforma della sanità e i fondi SURE per la cassa integrazione, quindi senza perdere ulteriore tempo usare quello che c'è a disposizione e poi prepararsi con un piano di riforme ad avere i fondi che potremo utilizzare a partire dal secondo trimestre del prossimo anno.